Con il passare dei giorni preoccupa sempre di più il grande caldo che sta investendo l'Italia intera. A Teramo la CGL ha lanciato un appello al Comune per intervenire sui centri estivi gratuiti organizzati dall'ente dedicati ai bambini di età compresa fra i sei mesi e i tre anni. Il sindacato ha denunciato in particolare le criticità che si stanno registrando all'interno delle strutture, sottolineando come le temperature negli asili superino i 30 gradi nelle ore più calde, mettendo a dura prova le educatrici, il personale delle cucine e i bambini stessi. È una situazione che in realtà noi avevamo denunciato già l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, per i più piccoli e per lavoratrici e lavoratori che assicurano pasti caldi e assicurano assistenza ai più piccoli perché purtroppo l'ondata di calore che si sta registrando in questi giorni è un'ondata anomala, le temperature sono schizzate, lo sappiamo tutti, lo sappiamo benissimo, però devo dire che anche gli scorsi anni faceva molto terribilmente caldo e purtroppo appunto abbiamo riscontrato che c'erano condizioni non accettabili e siamo dovuti intervenire pubblicamente per denunciare la questione e cercare di risolverla. Sulla questione è intervenuta l'assessore ai servizi educativi Stefania Di Padova che ha annunciato l'acquisto e la tempestiva installazione di apparecchi per la climatizzazione nei quattro asili nido interessati. Ad oggi il Comune di Teramo ha messo riparo, proprio ieri con una nota e questa mattina portando i climatizzatori portatili, però ecco ci vogliono anche interventi strutturali perché sappiamo benissimo che purtroppo, almeno quello che ci dicono i dati scientifici, il caldo non si fermerà nei prossimi anni, quindi ci vuole un intervento strutturale soprattutto all'interno degli asili nido che appunto se è tanto decantata che sia un'eccellenza bisogna che questa eccellenza possa navigare con i propri solidi mezzi. E soprattutto aggiungiamo un'altra nota, se c'è un coordinamento pedagogico territoriale dove è finito questo coordinamento pedagogico territoriale che deve essere, ha una delle tante finalità, è quello di assicurare un'eccellenza e una qualità all'interno degli asili nido.